La mia opinione è che se il candidato democratico alla Casa Bianca si è sbilanciato così tanto deve avere degli elementi molto solidi per farlo. Quello che sappiamo è che l'intrusione nel sistema informatico dei democratici c'è stata, anzi stiamo parlando di una serie di intrusioni e di azioni di spionaggio che si sono concretizzate nell'arco di un intero anno e sono arrivate fino alla sottrazione di circa 20.000 email con 8.000 allegati, quindi 8.000 documenti che riguardano la strategia della campagna del candidato democratico, la strategia elettorale del candidato democratico, della strategia politica del candidato democratico. L'altra cosa che sappiamo per certo è che adoperare queste intrusioni e queste azioni di spionaggio sono stati due gruppi di hacker russi che sono legati da sempre ai servizi segreti russi, sia a quelli civili che a quelli militari. Secondo lei è riconducibile a tutti gli effetti una longa manos del governo? E' possibile ed è pensabile e legittimo pensarlo, tuttavia bisogna considerare che questi gruppi non sono dei gruppi governativi, non sono interni ai servizi segreti russi, sono dei gruppi che lavorano per chi li paga meglio, tant'è vero che gli stessi gruppi hanno attaccato, è vero il sistema di comunicazione della Nato e hanno attaccato la Casa Bianca, ma hanno attaccato anche la TV francese, hanno attaccato la Deutsche Bank, hanno attaccato altri sistemi informatici di paesi, però di quello che una volta si diceva essere il blocco occidentale. Quello che sappiamo è che curiosamente hanno attaccato durante degli orari che sono compatibili con una supervisione dei servizi segreti russi, perché questi attacchi sono avvenuti durante gli orari lavorativi e hanno smesso soltanto quando c'erano le ferie lavorative in Russia. Quindi diciamo che nel settore della cyber security non si dà mai niente veramente per certo, diciamo che si ragiona su delle compatibilità, quindi diciamo che gli indizi che noi abbiamo sono compatibili con un'ipotesi secondo la quale questi gruppi indipendenti dal governo russo lavoravano per i servizi segreti russi facendo queste operazioni contro il candidato democratico. Secondo lei le protezioni erano molto deboli da parte dei server evidentemente del Partito Democratico statunitense o erano particolarmente forti gli hacker? No, in realtà qui l'anello debole è il fattore umano, come spesso succede. Da quello che io ho potuto ricostruire e che ho raccontato su Repubblica, sulle pagine di Repubblica proprio ieri, dovrebbe essere cominciato tutto dall'intrusione, nell'email di una consulente del Partito Democratico che stava facendo delle ricerche difensive o oppositive, si chiamano, nei confronti di Donald Trump. Questa persona ha ricevuto un'email di phishing, una di quelle email che ci arrivano, che sembrano esserci inviate da qualcuno che conosciamo, che magari è capace di chiamarci per nome, di fare riferimento a qualche elemento privato della nostra vita, per cui ci fa abbassare le barriere difensive, e ci fa ritenere che quella comunicazione è una comunicazione veridica di una persona che conosciamo bene o abbastanza bene, che ci invita però ad aprire un allegato, un documento o a visitare un sito dove ci viene inoculato un virus che prende il controllo del nostro computer. Da quel momento il software spia, questo virus si chiama Trojan in genere, riesce a registrare tutto quello che noi facciamo nel computer e eventualmente a esfiltrare i dati, si dice, cioè a trasferire i dati che stanno sul nostro computer nel computer dell'attaccante. Quindi in questo scenario abbiamo avuto di sicuro un attacco di spear phishing, si chiama, quindi un attacco attraverso il quale sono state rubate le credenziali di accesso a un computer che legittimamente accedeva ai server del Partito Democratico e da lì hanno cominciato a monitorare le attività del sistema informatico e a trasferire i dati a terzi. Questo è quello che è successo. Le chiedo un'ultimissima battuta. Trump viene descritto dagli avversari come legato a doppio filo a Mosca e a Putin. I fatti di cui parliamo, secondo lei, lo possono confermare o evidentemente è ancora troppo presto per dare un'indicazione così grave? Io penso che a questo punto il candidato democratico Hillary Clinton sta giocando ancora la vecchia carta dell'anticomunismo e forse fa anche bene di fronte a Trump che è così becero e disattento. È politicamente difficile da sostenere per noi che lo ascoltiamo. Però dire che ci sia un accordo con Putin e con la Russia da parte di Trump e del suo staff mi sembra veramente difficile da sostenere. Quello che è vero è che i due personaggi si piacciono. Affinità elettive, potremmo dire. Esatto. Questo sta alle cronache. È anche vero che Trump ha fatto quello scivolone auspicando l'intervento di hacker russi per ottenere le 30.000 e-mail che Hillary Clinton ha usato nel periodo in cui era capo del Dipartimento di Stato, il Ministro degli Esteri degli Stati Uniti in pratica, quando era capo del Dipartimento di Stato, cioè che era di più del Ministro degli Esteri americano, e lì effettivamente il problema si è posto perché quelle e-mail effettivamente non si ritrovano, ma si sono trovate 20.000 e-mail dove lo staff di Hillary Clinton prende in giro Bernie Sanders. Quindi in realtà anche questo secondo me è un tentativo di spostare l'attenzione da quello che è uno scandalo interno alla gestione del Partito Democratico all'esterno attaccando Trump e Putin, che è comunque il nemico di sempre.